Leonardo Silva Reviso 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 Re inceneriti o vengono compostati. Però se io prendo la carota e invece che vederla come qualcosa che si può mangiare la guardo da un altro punto di vista, questo è un materiale. È un materiale che la natura ha ingegnerizzato a puntino per la funzione che deve svolgere. Crescere, avere una struttura funzionale finché serve e poi poter essere reintegrata nell'ambiente una volta finito su utilizzo. Per fare questo la natura utilizza tutta una serie di macromolecole, la cellulosa, la pectina, la lignina, l'emicellulosa. Queste hanno una funzione ben precisa che è quella di dare sostegno, forza e la resistenza necessaria alle varie parti del vegetale. Però se io le guardo da un altro punto di vista e riuscissi a fare reverse engineering di quello che fa la natura, e riuscissi a trovare il modo per produrre oggetti con queste macromolecole, sarebbe un notevole passo avanti, non credete? Riuscirei a fare tutte quelle cose che devono durare poco e avrei trovato una possibile alternativa alla plastica. Questa è l'idea di fondo sulla quale con i miei colleghi del laboratorio di Smart Materials all'Istituto Italiano di Tecnologia stiamo lavorando da alcuni anni. Sviluppiamo processi per convertire scarti vegetali in bioplastiche biodegradabili. In un'ottica di economia circolare vogliamo utilizzare quello che è disponibile come scarto dell'industria del cibo e quindi per ottenere la nostra materia prima chiamiamo aziende che processano cibo e chiediamo loro di darci quello che rimane come scarto dalla loro lavorazione. Tendenzialmente devo dire che riceviamo risposte anche troppo entusiaste. Ci arrivano molto spesso sacchi giganteschi di scarti di vegetale quando per i nostri esperimenti ne bastano pochi grammi per volta. I primi 3-4 anni li abbiamo passati a aggiungere, a mescolare gli scarti vegetali con altri materiali biodegradabili con lo scopo di dare ai vegetali delle proprietà nuove, di aggiungere delle proprietà che loro non avrebbero. Però la cosa che vi voglio raccontare oggi è l'ultimo processo che abbiamo cominciato a sviluppare un paio d'anni fa che si basa sulla produzione di materiali e di bioplastiche che sono al 100% vegetali. Abbiamo visto che utilizzando un'acqua acidulata e controllando la temperatura e il tempo di processo riusciamo a smontare l'architettura con cui la natura ha messo assieme tutte quelle macromolecole, la pectina, la cellulosa. Queste nella parete del vegetale hanno un'organizzazione che è molto ben precisa, che ha lo scopo di dare appunto quella resistenza che serve. Io dopo che le ho smontate le rimetto tutte assieme, però questa volta le rimetto tutte assieme in modo completamente disordinato. Perché? Perché nella plastica che utilizziamo tutti i giorni le molecole sono disposte in modo completamente disordinato. Ottengo quindi un materiale che è fatto di molecole vegetali ma che sono organizzate come la plastica. Questo mi dà il meglio di due mondi perché le molecole vegetali mi permettono di avere una bioplastica che è completamente biodegradabile. Mentre la mia operazione di riorganizzazione mi permette di dare a un materiale vegetale quelle proprietà di forza e di resistenza che sono simili alla plastica. Se ci pensate, questo è come vi dicevo da tanti anni che lavoriamo nelle produrre bioplastiche e una volta abbiamo deciso di usare queste applicazioni. Quindi abbiamo fatto una cosa che vi devo dire per un team di scienziati e di ingegneri fa veramente paura. Cioè siamo usciti dal laboratorio a parlare con delle persone. Siamo andati al mercato di Genova, al mercato ortofrutticolo a Bolzaneto e abbiamo deciso di adattare le nostre tecnologie a quello che è il caso del mercato ortofrutticolo, quindi con l'invenduto del mercato ortofrutticolo, con l'idea di produrre bioplastiche per il mercato stesso. Volevamo dimostrare che le nostre tecnologie di trasformazione mi permettono di generare un nuovo sistema di economia circolare dove lo scarto dell'invenduto del mercato ortofrutticolo diventa materiale utile per il mercato ortofrutticolo stesso. Più o meno in questo periodo dell'anno, nell'anno scorso, eravamo a Berlino a presentare i risultati della nostra ricerca. Pellet biodegradabili fatti con il carciofo, fili per la stampante 3D, alveoli per contenere la frutta nelle cassettine fatti di pomodoro. Abbiamo dimostrato sul campo che si possono produrre imballaggi che sono fatti con i vegetali, che quindi a fine vita poi non inquirano più perché possono essere smaltiti, possono essere biodegradati, sono fatti di vegetali. Questo per noi è particolarmente importante perché il settore degli imballaggi utilizza il 40% di tutta la plastica che viene prodotta al mondo. Tutta la plastica, il 40% della plastica diventa imballaggio. Però mentre la durata di un imballaggio, l'utilizzo di un imballaggio è poche settimane, pochi mesi, la plastica di cui è fatto quell'imballaggio dura migliaio d'anni. Inoltre l'imballaggio e questo tipo di rifiuti plastici sono quelli che più facilmente vengono dispersi nell'ambiente perché la loro raccolta, il loro utilizzo, la loro gestione è particolarmente complicata. Pensate a quanta plastica avete incontrato da questa mattina. Pensate quanta plastica avete incontrato ogni volta che siete andati a righi o quanta plastica si trova quando si va al mare, quando si va in spiaggia. E pensate quanta plastica finisce nello stomaco degli animali, pensate quanta se ne mangiano, animali che poi ci mangiamo noi. Pensate quanta plastica si trova nello stomaco dei pesci e pensate se quella invece che essere plastica fossero i nostri materiali vegetali. Pensate quanto più contenti sarebbero i pesci. Queste tecnologie a me piacciono particolarmente perché mi consentono di pensare a un nuovo paradigma per produrre tutte quelle cose che devono durare poco. Non uso più materiali come la plastica che vengono da fonti fossili, che non sono biodegradabili, ma posso utilizzare materiali naturali, materiali vegetali che a fine vita non inquinano. Posso pensare di disegnare materiali che sono programmati per sparire dopo che hanno svolto la loro funzione. Che se ci pensate era un po' realizzare il nostro proposito iniziale, cioè fare reverse engineering di quello che fa la natura. Tra l'altro noi abbiamo voluto lavorare con gli scarti, abbiamo voluto ottimizzare i nostri processi per gli scarti dei vegetali perché non vogliamo andare in competizione con quella che è la filiera del cibo. I nostri scarti sono effettivamente una risorsa rinnovabile, vengono prodotti in tutti gli step della filiera del cibo. Quindi al contrario di molte bioplastiche che sono sul mercato che sono prodotte con il mais, quindi il mais che viene coltivato apposta per produrre bioplastiche, noi utilizziamo una cosa che al momento viene buttata. Quindi abbiamo la potenzialità di rendere più sostenibili non una ma due filiere contemporaneamente. A quella degli imballaggi, a quella di tutte le cose che durano poco, posso dare dei materiali nuovi che sono biodegradabili, che sono da fonti rinnovabili. Alla filiera del cibo invece posso dare un utilizzo nuovo per tutto quello che al momento viene buttato via. E voi penserete, ma se queste tecnologie sono sta gran figata, perché non le vedo usate dappertutto. Noi negli ultimi anni abbiamo lavorato nel sviluppare queste tecnologie, nel dimostrare che sono utili, nel dimostrare che si possono fare materiali, si possono fare bioplastiche, ma si possono fare anche oggetti. Adesso per fare il passo successivo dobbiamo lavorare anche con aziende che devono essere quelle che producono queste bioplastiche, con designer che devono essere le persone che sfruttano questi nuovi materiali, che disegnano questi nuovi oggetti e sfruttano il fatto di avere materiali che sono programmati per essere biodegradati. E poi noi siamo scienziati, siamo ingegneri e vogliamo tornare a casa in quello che è il nostro habitat naturale, che è il laboratorio. Vogliamo disegnare nuovi modi per aggredire altre potenziali fonti di scarto della filiera del cibo. Come chiunque ha visto esplorando il corpo umano si ricorda, gli animali non usano la cellulosa come mattone da costruzione, ma usano le proteine. Quindi riuscirò a ingegnerizzare anche le proteine. Questo è quello che vogliamo fare ed è il nostro prossimo obiettivo, partendo con un progetto che partirà a breve sulla valorizzazione delle proteine e in particolare le proteine della cheratina che si trova nello scarto delle piume, si trova nello scarto dell'industria tessile. L'economia circolare, la blue economy, sono delle belle parole, ma non sono vuote che uno si mette in bocca per riempirsi la bocca, ma sono effettivamente una potenzialità per disegnare un nuovo modo per vivere noi come società. Servono delle nuove tecnologie, e ve ne ho fatte vedere un paio. servono l'apporto delle aziende che devono essere lavorare con noi per sfruttare questi nuovi materiali, per sfruttare queste nuove tecnologie, con l'obiettivo, in questo caso, di riuscire a eliminare la plastica. Perché, come diceva il poeta, dai diamanti non nasce niente, ma dallo scarto nasce la bioplastica. Grazie mille. Grazie mille.